Partiti, prime fasi di gara, Aloe è veloce in corda, su di lei si propone subito a cuori agitati, prende posizione molto bene in partenza anche Cala Regina, all'esterno di questi c'è Madad, intanto Cala Regina assume l'iniziativa nei confronti di Aloe, quindi c'è Massimo Meridio, poi sui primi dall'esterno cuori agitati e più all'esterno ancora Madad, conduce sempre Cala Regina sul rettilineo opposto, pone l'andatura alla corsa nei confronti di Madad all'esterno, quindi cuori agitati, ancora Massimo Meridio, Aloe per le linee interne, poi ancora Principe d'Oriente, Red Simple, Cavalli sono già sulla curva, a metà piegata Cala Regina mantiene sempre l'iniziativa nei confronti di Aloe e Madad, poi Principe d'Oriente, poi Massimo Meridio e Red Simple, ancora sui primi prova a riserrare Giunchiglia, Cavalli al completamento della curva, entrano in dirittura, Cala Regina si arrocca in corda, inseguita sempre da Aloe e Madad, per le linee interne c'è Principe d'Oriente, poi ancora Massimo Meridio e Red Simple, 400 dalla conclusione, con Cala Regina che subisce l'attacco adesso da parte di Aloe, e dietro a questi due c'è Principe d'Oriente, poi ancora Red Simple, lotta molto aperta, 250 dal palo con Red Simple che prova ad accelerare adesso, Red Simple in lieve vantaggio nei confronti di Aloe e Massimo Meridio, poi ancora gli altri a lottare con la Roma che cerca di finire bene, Red Simple sulla Roma, Red Simple sulla Roma, Red Simple vince chiaro sulla Roma, poi ancora Principe d'Oriente, Giunchiglia ed Aloe. Red Simple, uno dei cavalli beniamini di Maia, sempre piuttosto disponibile, Red Simple questa volta trova il risalto pieno in modo chiaro e netto con Davide Steinwander, i colori del signor Cristian Ghiotti e Simone Pugnotti al training. Red Simple, uno dei cavalli benissimo,